ricordate figli cerchio esseno attraverso nt amedeo ricordate figli la figura del cristo rappresenta una pietra miliare dell'evoluzione umana sia dal punto di vista sociale che spirituale il cristo ha vissuto per una breve parentesi del suo tempo terreno tra gli esseni ma anche vissuto presso altre comunità allora le religioni avevano un fondamento comune non è come oggi che c'è un distacco un divario tremendo per cui si arriva ad uccidere in nome della propria religione al principio le fonti erano quasi unite l'ebraismo il cristianesimo l'islamismo hanno tutte un punto di fusione iniziale il cristo ha portato di nuovo quel concetto di amore vero universale che permette alle creature quando è applicato di donare se stessi senza chiedere nulla in cambio